Con Paolo Gregori di Trentino Sviluppo ha una conferenza stampa di adice a Castiglione delle Stiviere per parlare di tessile, in particolare del settore della calza. Cosa succede? Noi siamo stati invitati volentieri dagli organizzatori per testimoniare quello che è il mondo della ricerca all'interno del sistema Trentino, per essere un partner per lo sviluppo di nuove tecnologie, per i nuovi materiali e per l'efficientamento energetico dei processi produttivi. Cercheremo quindi di illustrare, di stimolare le possibilità anche grazie alla presentazione di alcuni casi di successo che abbiamo avuto nel nostro territorio e poter attivare nuove collaborazioni anche con il contesto del distretto del territorio mantovano. Un distretto che è sempre stato leader e adesso vede comunque un po' di flessione a causa della crisi, secondo lei quale può essere il futuro del tessile quindi? Sicuramente l'innovazione è una delle principali leve per poter sviluppare nuovi prodotti e processi produttivi e sicuramente l'ambito dell'internazionalizzazione è l'altra leva. Per poter aggredire però il mercato globale bisogna avere dei prodotti innovativi e quindi le due cose sono correlate e bisogna cercare di cavalcare le evoluzioni che gioco forza sono le novità a livello anche internazionale e non subirle. Questo può essere fatto cercando di innovare sempre di più i prodotti ma anche e soprattutto facendo in modo che le aziende tra di loro si parlino e accorcino le distanze che ci sono con i centri di ricerca e con i dipartimenti universitari.